E' lì sul paravento. Evelyn Stone, agente del servizio segreto. I miei documenti sono nel doppio fondo di quella borsa. I miei non ti interessano? Per farne cosa, so tutto di te. Il capo mi ha ordinato di raggiungerti qui. Hai una scelta questa sera al Goulam. Credo che sia un nightclub, la riceveremo altre istruzioni. Bene. Sei arrivato finalmente? Scusa caro, fammi un piacere, dammi la vestaglia. Quando siamo soli non vale la pena di recitare la commedia degli sposini. Potrebbe esserci un microfono nascosto. Ho già guardato dappertutto, nessun microfono. Qualche periscopio allora? No, sta tranquillo, nessuno ci osserva. Ho idea di non piacerti troppo come principe consorte, signora Nolan. Signor Nolan, hai appena il... Signor Nolan, hai appena il...